Presidente, sarò breve perché devo dire che seppur interessante questa mozione è sotto certi profili condivisibili perché quello che chiede nell'impegnato apporre in essere ogni utile strumento al fine di continuare nel percorso intrapreso per combattere con ogni mezzo la violenza sulle donne, sensibilizzazione, adesso non ripeto tutto l'impegnato, è proprio quello che questa amministrazione sta attuando. L'iniziativa Amami e Basta che è stata proprio citata all'interno della mozione non è una delle uniche attività fatte da questa amministrazione, ce ne sono tantissime tra cui non di poca importanza la delibera relativa alla presa in carico, le linee guida della presa in carico delle donne vittime della violenza e dei minori e la stessa delibera non fa altro che illustrare tutta una rete di sistemi di azioni multidisciplinari proprio per la presa in carico della donna e degli eventuali figli minori, ma non solo questo, la scuola di parità è stata un'altra iniziativa per la diffusione della cultura delle varie opportunità all'interno delle scuole, quindi tutto quello che c'è scritto in questa mozione è in linea con quanto già l'amministrazione sta attuando, questo non vuol dire che non si debba proseguire e migliorare ad apportare, ma non è assolutamente in contrasto con quanto l'amministrazione sta facendo e l'episodio che è stato citato dalla consigliera Baglio non può comunque offuscare ed entrare nel merito di quello che noi stiamo facendo, in realtà quello è un episodio che ha delle sue ragioni, un uomo che ha magari espresso per sfogo, ma non è questo la sede, non è questo il senso della mozione, il senso della mozione è che questo che voi chiedete è ciò che l'amministrazione sta attuando, quindi il movimento si asterrà da questa mozione.